Con Gran Ragu Star, una scarpetta... Anch'io, anch'io. Tira l'altra. E un'altra. Che Gran Ragu. Perché è fatto con il classico soffritto, pomodori selezionati e una gran quantità di carne 100% italiana, che cotta lentamente e lo rende ricco e corposo. Gran Ragu, Gran Scarpetta. E per una scarpetta ancora più ricca, Gran Ragu Star extra gusto, con ancora più carne e un tocco di spezie profumate. Grazie a tutti.